muoversi e diciamo l'ha intitolato in questo documento che poi tra un po' arriverà anche alle poline di Foggia, che ha questi tre elementi, questi tre doni dice Benedetto XVI, famiglia, lavoro, festa, famiglia, lavoro, festa e ha lasciato questa traccia diciamo così alle famiglie di tutta l'umanità, erano presenti veramente famiglie italiane, ma con molte più difficoltà famiglie che hanno fatto viaggio da tutte le parti del mondo per rappresentare davvero tutta la Chiesa. Ecco noi oggi vogliamo un po' a breve distanza riportare tra di noi, soprattutto in questo gruppo che in questa nostra dioce si rappresenta la punta di diamante della pastorale famigliare, la punta di eccellenza, vivere questa dimensione, evangelizzare ed evangelizzarsi secondo il progetto che Benedetto XVI ha voluto lanciarsi. Le provocazioni tra virgolette sono tante e nello stesso tempo in un discorso anche molto breve. Innanzitutto cosa significa la famiglia, su quale comunione si basa la famiglia? Il giorno in cui ha parlato Benedetto XVI era il giorno della Santissima Trinità, questa comunione, noi crediamo in un solo Dio che è amore e abbiamo scoperto perché è amore, perché sono tre persone che si amano, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, tutte e tre sono un unico Dio, un'unica sostanza, un unico essere assoluto a cui noi ci rivolgiamo, eppure sono tre persone. E allora questa perfetta unità tra Padre nostro, Gesù Cristo e lo Spirito Santo è rimane la comunione perfetta su cui si basa anche, e prima di tutto, la prima elemento di comunione all'interno dell'umanità, la famiglia. E allora dice Benedetto XVI, da questa comunione trinitaria nasce un esempio non solo per la Chiesa tutta, ma anche sulla famiglia, fondata sul matrimonio tra l'uomo e la donna. E allora ecco, innanzitutto, che cos'è la famiglia? Un'unione tra un uomo e una donna. Ecco, già quest'oggi, questa frase potrebbe essere messa in discussione, magari se la dicevamo 30 anni fa, no, non c'era nulla da ribadire. E rimane questo il progetto di Dio. Il progetto di Dio è verichiero. Ricordiamoci che esiste la verità, se c'è uno dei mali di cui Benedetto XVI dicessimo oggi mette in vista è il cosiddetto relativismo, cioè non esiste una verità. Se voi parlate con tante persone dice sì, io la penso così, io la penso così, ma va bene. È chiaro che noi siamo innanzitutto come cristiani tenuti a rispettare l'opinione di tutti, ci mancherebbe, anzi, la nostra fede che è amore ci richiede rispetto di tutti, però noi, tu sai che Dio esiste, tu sai che la verità esiste. E ci sono delle verità che non sono negoziabili. Possiamo decidere e cambiare via su che cosa mangiare oggi, ma la verità, la verità è quella, da sempre e per sempre. E non c'è un cambiamento che nasce dalla cultura, dai tempi. Quante cose sembrava che dovessero cambiare e poi invece grazie a Dio sono rimaste uguali. Alcune ne è bene, alcune ne è male. però la verità assoluta c'è. Uno più uno fa due. Tremila anni fa, oggi e tra sei mila anni. Non è una questione di moda la verità. E quindi la coppia, il matrimonio, la famiglia si fonda sul matrimonio tra un uomo e una donna. E nello stesso tempo con pari dignità e con proprie e complementari caratteristiche. È chiaro che noi crediamo in queste due cose che sembrano quasi un po' contrapposso. Ecco, pari dignità, però nello stesso tempo con le caratteristiche tipiche della femminilità e della maschilità, ma dell'essere uomo e di essere donna. Un progetto complementare all'interno della famiglia. con proprie, appunto, complementari caratteristiche. Perché i due fossero dono l'uno per l'altro. Ecco, già arrivare a capire questo, nel matrimonio, il marito e la moglie, è un dono per me. Già, se avessimo questo sguardo, per molti, no, alcuni, il marito e la moglie su un peso. Dice, no, sono un dono. Sono un dono che Dio ti ha dato. E valorizzare questo, questo dono. perché si valorizzassero reciprocamente. Io sto valorizzando mia moglie. Sto valorizzando mio marito. Mi ha scoperto il suo valore, il suo dono per me. La sua unicità. E realizzassero una comunità di amore e di vita. Di amore e di vita. Che cosa significa? Una comunità di amore significa che le cose si risolvono con amore. Non attraverso un compromesso, ma con amore. Ma quante volte si vedono anche in televisione, secondo me, da questi dibattiti, sempre davanti ad un giudice su ogni cosa che deve risolvere il problema. Ma non si può mettere un giudice per ogni cosa. La coppia deve sapere risolvere i suoi problemi con amore. È chiaro che non risolve i suoi problemi se il modo con cui li vuole affrontare non è l'amore. Quando c'è amore, amore, amorevolezza tra i due, ci si guarda in faccia e il problema già è diverso. Perché prima viene la persona, poi il problema. Io prima scopro e mi ricordo e lo faccio a memoria dell'amore che ho verso quella persona. E dopo affrontiamo insieme il problema. Allora ecco che sia una comunione d'amore. Sapete risolvere i vostri problemi con l'amore? No. Allora come avete fatto a sposarvi? Come avete fatto di innamorarvi se non c'era l'amore tra voi due? La prima domanda che io vi chiedo quando siete venuti liberamente per amore davanti alla chiesa? È così, no? Per amore, perché se non c'è l'amore di fondo non c'è la capacità di affrontarsi e di risolvere i problemi. Che sia una comunione d'amore e di vita, dice, benedetto se dice. Di amore di vita. Che cosa significa? Che ci sia vita, no? Quando uno dice che il matrimonio è la tomba dell'amore, no? È la vita dell'amore. Il matrimonio è ricco di vita, non perché nascono semplicemente vivi, ma perché uno nel matrimonio realizza, e nella famiglia realizza la pienezza della vita, respira la bellezza della vita e trova vita nel matrimonio. Mentre per alcuni, no? Nel matrimonio ci si sente soffocati, così si dicono, si dice. Il matrimonio mi soffoca. Allora perché? Perché evidentemente tu non lo stai vivendo come un'esperienza di vita, nel senso come un'esperienza che ti riempie di vita, giorno per giorno, momento per momento. Allora questo è importante, che sia una comunione di amore, in cui ogni cosa, ogni problema viene affrontato con amore, mettendo alla base l'amore, così si risolvono tutti i problemi, di tutte le cose. E che sia il luogo della vita. Io so che nella famiglia e nel matrimonio c'è la vita, vivo la vita e non mi sento soffocato da questo. E ognuno dei due si deve impegnare a rendere il matrimonio una cosa bella, piena di vita, non soffocante. No, questo è un po', devo dire la verità, è un po' solo delle donne che tendono a essere betulanti. No, c'è un po' di mariti che scappano per un motivo quando si vanno a comprare le sigare e scompagliano per un uomo. Per respirare, no? Dicono, dammi un respiro. E dice la moglie, io quando le respiro invece, io sto qua, tu almeno te ne esci. Allora, entrambi si soffocano a vicenda. Allora il matrimonio non sta per soffocarsi. Il matrimonio sia un'esperienza di amore e di vita. In cui le cose si vivono, si vivono, non si fanno. Imparate a vivere le cose, non a farle. Quando tu cominci a farle, soffochi. Se tu cominci a viverle, è diverso. E ognuno deve essere delicato, l'uno, il marito con la moglie, la moglie e il marito, nel far sì che i problemi, le cose siano vissute e non sia un'esperienza soffocante. E dice il punto, poi Benedetto XVI, che sia la famiglia, in pratica, è la prima grande scuola delle virtù della vita, delle virtù sociali, il rispetto delle persone. Chiaro, si comincia a imparare a rispettare le persone nella famiglia, tra marito e moglie, tra padre e figli. Mi colpisce sempre quando mi sono venuto a predicare la conversione dei cuori dei padri verso i figli. Ma noi ragioniamo sempre al contrario, no? Che si devono convertire i figli nell'obbedire i padri e i genitori. Invece la Sagra Scrittura dice solo, convertitevi, convertite il cuore dei padri verso i figli. Quando c'è un buon padre di famiglia che si converte, che ama i propri figli, li segue, li sente, hai voglia come cambia tutta la famiglia. Quanti padri delegano completamente alla madre l'educazione dei figli, lo stare con i figli. E questo è terribile. Convertire il cuore dei padri verso i figli. Allora, il rispetto delle persone. Se tu hai cominciato a rispettare tuo figlio e a dargli peso, importanza, quel tuo figlio è già la persona più felice del mondo. Perché sa che il suo papà lo ama e lo stima. Lo ama e lo stima. E non ha bisogno di cercare amore e stima sempre dall'esterno, da altri, da altri, da altri. Nasce e cresce già felice. È realizzato. Perché ha la stima di suo padre e di sua madre, ma di suo padre in questo caso soprattutto. La gratuità. La scuola di virtù sociale iniziava di gratuità. Fare le cose senza un tornaconto. Di fiducia. Perché si acquista la fiducia e si impara ad avere e a dare fiducia. Di responsabilità. Perché ci si chiede di essere responsabili nelle singole cose. Quante coppie, a volte veramente, famiglie in genere, crollano quando si accorgono, l'altro si accorgono che tu, uno dei due è molto responsabile di tutto e l'altro se ne fischia, diciamo noi. Allora dov'è la responsabilità? E si perde restima l'uno dell'altro. Allora tu non sei responsabile come me, non ti senti responsabile come me di tutto quello che sta accadendo. Di solidarietà e di cooperazione. E poi dice il progetto di Dio sulla coppia umana trova la sua pienezza in Gesù Cristo che ha elevato il matrimonio a sacramento. E quindi il nostro sguardo è chiaro che va sulla figura di famiglia cristiana per eccellenza che è la sacra famiglia. Giuseppe, Maria e Gesù. Giuseppe, Maria e Gesù. E la preghiera. La preghiera è ciò che fa sì che una famiglia abbia il suo rapporto con Dio. E allora che tipo di preghiera? Noi sappiamo benissimo che la preghiera fondamentale che unisce tutta l'umanità cristiana è la liturgia delle ore. Erodi, Vespri, eccetera, tutto quanto, no? Noi facciamo anche noi ministri, abbiamo fatto proprio tra le tante obbedienze, l'obbedienza della liturgia delle ore, quindi le lodi, la liturgia, l'ufficio delle letture con le letture a parte, oltre quali della messa. Poi l'ora media, i Vespri, la compietono, abbiamo cinque ore, tra virgolette obbligatorie, al giorno. Però ci rimettono ogni nostro momento della giornata di fronte a Dio. Cosa fare? Chiaro che non si può pretendere che una famiglia cristiana faccia tutto questo. Si sa che questo è l'obiettivo, la perfezione, diciamo così. Quindi, vivere un momento di preghiera insieme, nei momenti forti, è chiaro che questo rimette di fronte a Dio. Come fare? Io ad ogni coppia non do mai una soluzione. Ecco, questa è la soluzione. No, ogni coppia deve trovare la sua sintesi, deve trovare i suoi tempi. È chiaro, una cosa è essere in pensione, una cosa è essere tutte e due che lavorano. Cioè, ci sono dinamiche diverse all'interno di ogni coppia, che è completamente differente, è anche il compito del padre spirituale, ascoltare, capire le esigenze, vedere come e quando la coppia può pregare. Però, c'è un momento, secondo me, che è anche forse il più breve di tutti, che rimane il momento di preghiera più importante e più evangelizzante. È la preghiera ai pasti. è brevissima. Eppure, in quel momento, tutta la famiglia e i figli e il marito e la moglie e ognuno che si trova in quella casa, capisce che quello che c'ha davanti viene da Dio. Bastano poche parole. Però quella preghiera non deve mancare mai. La preghiera è basta. perché lì che si capisce, si evangelizza e ci si rende conto che non solo quel piatto che hai davanti, ma anche l'aria che stai respirando in questo momento, ti viene da Dio. Che ogni cosa ti viene da Dio e ritornerà a Dio. Cioè, fa capire, al di là della benedizione sul cibo, fa capire che veramente ogni cosa che abbiamo viene da Dio e a Dio ritornerà, e compreso noi. E ci mette in atteggiamento di gratitudine. Ci mette in atteggiamento di chi sa che passano le cose di questo mondo e non conta sulle cose di questo mondo. Ma avete visto nel terremoto, come ogni terremoto, quanta gente dice, qui c'era tutta la mia vita, in questa casa. No! No! La tua vita è molto di più di una casa, di una macchina o di qualsiasi altra cosa. Passano le cose di questo mondo, perché guardate, i terremoti comunque Dio lo sa che vengono. Eppure, come un ladro di notte, ci avete fatto il passo che il terremoto ti rimanda sempre di notte. E poi, per far capire la gente, vedete, tu che cosa hai contato, che cosa stai costruendo, le cose materiali, ma lo sai che tutto passa. E Dio rimane. Allora, quella preghiera sul cibo che fai nei vari pasti, riporta immediatamente te, i tuoi figli, la tua famiglia, a capire che è da Dio che viene ogni cosa e nello stesso tempo Dio potrebbe farcela mancare. Quindi ringraziarlo ogni giorno delle cose che abbiamo e nello stesso tempo renderci conto che tutte queste cose sulla faccia della terra passano e che molte persone vivono, anche molte che non vanno ammesse che non sono cristiane, come se veramente Dio fosse un optional. Non si rendono conto che tutto quello che hanno della mattina alla sera viene da Dio e che Dio glieli può togliere da un momento all'altro. E comunque a un certo punto glieli toglierà, sicuro per tutti. E che cosa rimarrà da quella vita? Nulla, certamente. Nell'eternità ci portiamo le cose materie, anzi, piuttosto saranno delle zavorre. Allora, la preghiera è con questo tipo di logica che sta tutto dietro. E poi ogni famiglia, tempi forti, non tempi forti, chi ha più tempo, chi non ha più tempo in base a tutto quello, deve trovare la sua ricetta di preghiera. Tutta simbola da trovare con il proprio parco spirituale, naturalmente. E naturalmente cosa dice poi? Mantenere un costante rapporto con Dio, preghiera o non preghiera, mantenere un costante rapporto con Dio, come? Partecipando alla vita ecclesiale, perché è strana della Chiesa, è chiaro che il tuo rapporto con Dio si invebolisce, è automatico, perché stacchi il ramo da là, dalla pianta. Voi siete come la vita e i trarchi, vi staccate dalla Chiesa, vi staccate da me. Ed è così, regolarmente. coltivare il dialogo. Quando finisce il dialogo finisce tutto, eh signori? Nella coppia, nella vita, nella società. Quante volte, ma in ogni realtà, non solo nella coppia, anche tra genitori e figli, tra fratelli e sorelle, tra amici, nella loro rotto. Quando chi accrolla il dialogo crolla tutto. No, ma perché io ti ho guardato così e tu dovevi capire, ma sai come ti ho guardato? Eeeh! Quegli due occhi sono, due, tre o quattro espressioni abbiamo. Non è che siamo animali, grazie a Dio abbiamo la parola. Allora io capisco cosa tu stai pensando, sai come? Non guardandoti negli occhi, ma chiedendo come stai, cos'è, com'è, perché? Allora lo so. Ma se io devo intuire? Sì, può passi che intuisca, ma potrei capire fischi per fiaschi. Se non si dialoga, non c'è, cade tutto. Voi sapete quello che penso se io te lo dico? Io quando voglio sapere una cosa da una persona, chissà cosa pensa, vado a quella persona e glielo chiedo. Lo so, è semplice, è la cosa più semplice. E così se noi si rompono le amicizie, le cose, e a volte, molto spesso, non c'è dialogo tra marito e moglie. È orribile. Rispettare il punto di vista dell'altro. L'altro ha un punto di vista diverso, ma proprio fisicamente. Tu stai là, tu stai là, tu hai una visuale e io ne ho un'altra. Ma non diventa un modo per litigare, perché il tuo punto di vista ti fa vedere la stanza da un modo, il mio punto di vista me ne fa vedere un altro. insieme sappiamo come...